in questo tutorial vi voglio far vedere come lavorare un'altra variante diciamo del punto a treccia in crochet è una variante in quale lasceremo tre punti in mezzo vedete? e viene così tipo a otto più che a treccia, sì a treccia otto questa fino a qua l'ho lavorata semplicemente invece qua in mezzo ho messo anche un punto bubble, un punto palloncino adesso vi voglio far vedere entrambe le varianti è un punto a me piace moltissimo perché è molto bello da lavorare dei maglioni, delle sciarpe, di tutto e di più veramente, anche delle coperte comunque è un punto molto molto bello vedete viene così in rilievo, veramente veramente bello allora io per questo campione ho scelto così tre punti alti da un lato e dall'altro del lavoro, del modello per fare un bordino poi due per la prima parte della treccia tre per i punti che li mettiamo in mezzo due per la seconda parte della treccia e in totale sono tredici tre più tre sei, due più due quattro quindi dieci più tre in mezzo sono tredici adesso andiamo a avviare tredici catenelle una, due, tre quattro, cinque, sei, sette otto, nove, dieci, undici dodici, tredici avviate le tredici catenelle facciamo ancora una e nella tredicesima catenella filo sull'uncinetto andremo a lavorare il nostro primo punto alto quindi tredici più una una per poter iniziare a lavorare quindi non la contiamo come punto questo è il mio primo punto alto filo sull'uncinetto e il secondo il terzo e questo sarà un giro diciamo di di punti di punti alti quindi dobbiamo avere alla fine di questo giro tredici punti alti ho finito il mio primo giro di tredici punti alti uno, due, tre, quattro, cinque, sei sette, otto, nove, dieci, undici, dodici e tredici adesso una catenella per girare il lavoro e facciamo cominciamo con il nostro bordino quindi lavoriamo tre punti alti normalmente filo sull'uncinetto proprio qua sopra il nostro primo punto alto lavoriamo un punto alto uno, due, nel secondo e tre nel terzo ok, questa è la mia come dicevo il mio bordino vedete il bordino di tre punti alti bene, adesso cominciamo la prima parte della treccia per farli così in rilievo lavoriamo così intorno alla barretta del nostro punto barretta verticale entriamo così a destra, a sinistra davanti quindi dico davanti perché davanti all'uncinetto abbiamo preso la barretta facciamo un punto alto normalmente e il secondo sempre così davanti perché ho davanti all'uncinetto la barretta ok il secondo poi come vi dicevo il modello che l'ho fatto io qua ho tre punti alti normali tra le mie due trecce andiamo a lavorare allora tre punti alti normale attenti a non lavorare questi due perché lavorando intorno alle barrette certo che le maglie qua, le asole sono rimaste vuote perciò attenti a non lavorare quelle uno, due lavoro tre punti alti uno due e tre ok e adesso la seconda la seconda parte della mia treccia quindi ancora due punti alti lavorati intorno alla barretta davanti davanti cioè ho davanti all'uncinetto la mia barretta uno e due e i miei tre punti alti del bordino uno due e voilà sì dovrei prenderlo tutto tre il secondo giro che già abbiamo iniziato le trecine vedete il secondo giro è questo adesso facciamo il terzo che il terzo sarà l'indietro facciamo una catenella giriamo e proprio sopra questo punto alto quindi nel primo punto facciamo un altro punto alto uno due e tre lavorati normalmente per il bordino poi questi due i punti della treccia vedete si è formata qua o qua i due punti le due asoline diciamo perché abbiamo lavorato intorno alla barretta allora li lavoriamo così sempre intorno alla barretta ma indietro indietro vuol dire che io ho indietro all'uncinetto la barretta vedete è qua il mio uncinetto si vede l'uncinetto è indietro la barretta ecco uno e il secondo è questo qua si vede perché ho qua l'asola no? come entro? tengo così l'uncinetto cioè il filo e entro davanti cioè questo è il davanti del lavoro no? davanti indietro esco sempre davanti spingendo la barretta eccola qua e adesso faccio così piego un po' per farvi vedere intorno sotto la barretta ecco il filo e lavoro adesso normalmente il mio punto alto ok? e mi sono rimaste sempre indietro le asoline dei punti bene invece davanti vengono tutti per bene adesso lavoro i miei tre punti alti normalmente uno due tre sono chiari uno due tre bene adesso altri gli altri due punti della mia treccia sempre così entro davanti esco davanti intorno alla mia barretta prendo il filo lo passo sotto la barretta e faccio il mio punto alto normale la stessa cosa anche con questo qua ecco sotto la barretta e lavoro il mio punto alto ok adesso semplicemente finiamo il nostro giro con tre punti alti del nostro portino due tre ok questo è l'indietro e questo è il davanti bene adesso è il momento il quarto giro sarà quello dell'intreccio proprio questo uno due tre e quattro proprio questo ok ho fatto una catenella mi giro e lavoro i miei tre punti alti del bordino ops uno due tre adesso attenzione avviciniamo un attimo ok come facciamo lavoriamo così con un punto altissimo due volte filo sull'uncinetto entriamo io dico così uno due tre quattro i quattro punti della treccia uno due tre quattro entriamo allora nel secondo questo qua intorno alla barretta così davanti e lavoro il mio punto altissimo uno due volte filo sull'uncinetto e lavoro il primo sempre intorno entro così ed esco intorno alla mia barretta uno due tre ok la prima parte dell'intreccio l'ho fatta adesso diciamo che un pochettino è più particolare la lavorazione perché io devo andare qua indietro a lavorare ops qua indietro a lavorare i miei tre punti alti quelli questi qua in mezzo alla treccia per non sbagliarmi con i due questi qua o questi qua uno due e questo dove devo infilare il mio uncinetto allora filo sull'uncinetto li lavoro con punti alti normalissimi ed è questo il primo questo faccio così questi li metto così potete tenerli anche così in giù questi altissimi che li avete lavorati e entriamo nel terzo in questo uno e lo lavoriamo con un punto alto normale uno vedete questo l'ho lavorato adesso è il secondo ok e l'ultimo perché queste due asoline qua appartengono a questi due quindi io non li devo lavorare perché sennò vado a aumentare non voglio ho lavorato anche questi tre punti alti adesso devo andare a lavorare questi due cioè a finire la treccia uno due con punto altissimo entro nel quarto uno due tre quattro entro nel quarto qua intorno eh sì ok intorno a questo qua entro prendo il filo lo passo indietro al punto e lavoro il mio punto altissimo uno e adesso il terzo uno due volte filo sull'uncinetto entro intorno a questo qua prendo prendo il filo ecco e lavoro il mio punto altissimo e adesso il bordino con tre punti alti uno due tre ok ho fatto l'intreccio diciamo adesso questi due diciamo queste due due giri sono un po' più difficili questo dell'intreccio e questo indietro subito una catenella giriamo lavoriamo i tre punti alti qua nel bordino che con questi non abbiamo dei problemi uno due ups tre adesso come lavoriamo qua questi due li lavoriamo prima quindi questi due e come li lavoriamo filo sull'uncinetto con punti alti stavolta questo è il primo come 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 far vedere ok questo è il primo questo uno due uno due uno questo e lo lavoro così lo vedete qua entro davanti indietro intorno alla mia barretta eccola qua la barretta e vengo col punto con il filo lo tiro indietro indietro la barretta e lavoro il mio punto alto uno il secondo faccio la stessa cosa lo spingo un po' qua che così lo vedo eccolo qua e questo è il secondo della treccia eccolo qua filo sull'uncinetto entro davanti indietro prendo la barretta e filo sotto la barretta e lavoro il mio punto alto voilà adesso semplicemente i miei tre punti alti eccoli qua uno due tre l'ultimo qua tre no cosa ho fatto uno due e sì questi sono questi qua sì è questo tre ho fatto bene ok ho lavorato anche i miei tre punti quindi ho lavorato metà treccia adesso vedete devo lavorare anche questi due punti sempre ugualmente a questi due e come faccio filo sull'uncinetto li prendo qua che li vedo così li vediamo per bene entro davanti indietro e prendo il primo così lo vedete qua ok sotto tiro il filo sotto la barretta poi faccio il mio punto alto ok e l'ultimo è questo qua sempre così davanti indietro lo spingo il filo sotto la barretta e lavoro il mio punto alto adesso vado a lavorare i miei tre punti del bordino punti alti lavorati normalmente ok e ciò che abbiamo fino qua ops ok adesso cosa dobbiamo fare niente ci giriamo una catenella e lavoriamo i tre punti alti uno del bordino questi sono tanto carini due tre poi questi due come li lavoriamo un attimo faccio qua l'intreccio no uno due tre quattro uno due tre uno due tre quattro no andiamo avanti così ok quindi li lavoro normalmente quindi col punto alto ma davanti perché io devo continuare diciamo il disegno delle due barette perciò lavoro sempre così per metterle in rilievo due poi i tre punti alti in mezzo li lavoro normalmente uno due tre poi questi due li lavoro uguali ai primi due quindi così uno intorno al nostro alla nostra baretina facciamo un punto alto normale ecco due e adesso il bordino tre punti alti uno due tre una catenella una catenella per girare giriamo il lavoro e facciamo di nuovo il bordino uno due potevo fare anche col due con due punti solo tanto per far vedere meglio diciamo il modello fatto così tre ok adesso come li lavoriamo filo sull'uncinetto sempre col punto alto entriamo davanti indietro ecco qua la mia prima baretina prendiamo il filo e lavoriamo il punto alto la stessa cosa con il secondo davanti indietro intorno alla mia baretina voilà poi i tre punti alti che li lavoriamo normalmente un due e tre poi questi altri due uguali ai primi due intorno ecco la baretina prendo il filo e lavoro il punto alto davanti indietro intorno alla baretina prendo il filo e lavoro il punto alto filo sull'uncinetto lavoriamo i tre punti alti del bordino due e tre ok vi faccio vedere fino a qua cosa abbiamo adesso in questo giro dobbiamo andare a intrecciare di nuovo quindi uno abbiamo intrecciato il secondo abbiamo lavorato diciamo è questa la sequenza no? uno abbiamo intrecciato il secondo abbiamo lavorato indietro tutta la nostra bella treccia tre quattro davanti indietro lavorato semplicemente e cinque di nuovo una treccia sempre sul davanti quindi una catenella giriamo e facciamo i nostri tre punti alti del bordino due tre adesso andiamo a intrecciare facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto qua uno due punti altissimi nel secondo punto in rilievo cioè della treccia entriamo uno due bene uno due volte filo sull'uncinetto entriamo intorno al nostro primo punto della treccia prendiamo il filo una volta una volta due volte tre volte adesso lavoriamo come vi dicevo i tre punti alti qua in mezzo li lavoriamo indietro a queste due questi due che li abbiamo appena lavorati però dobbiamo assicurarci qual è il primo e questo è il primo dopo andiamo avanti questo questo è il mio punto della treccia quindi questo è il mio punto primo punto dove devo lavorare teniamo presente che è questo qua eccolo qua entro uno due sì è questo e qua dobbiamo guardare per bene non vogliamo ecco e li lavoriamo questo è un po' sinceramente uno due tenete così le prime due della treccia e tre perché così si lavora più facile ecco ok adesso dobbiamo andare indietro a completare la nostra treccia no uno due volte filo sull'uncinetto vado nel quarto punto della treccia da questo qua che non è mica simpatico lui ok così prende il filo ups anche sto filo ok ecco e lavoriamo un punto altissimo uno due tre ups volevo ecco così un pochettino che si veda meglio bene primo l'ho lavorato e ho anche questo il secondo cioè il terzo diciamo uno due come detto tre e quattro quindi il terzo lavoro il quarto poi il terzo ok il terzo vengo così una volta filo sull'uncinetto due volte filo sull'uncinetto tre volte ecco fatta e adesso vengo a lavorare i tre punti i punti del bordino due e tre ok quindi cominciamo a creare la nostra treccia guardate che bella vedete poi si va avanti così facciamo ancora una volta anche l'indietro quindi una catenella ci giriamo entriamo nel primo punto alto e lavoriamo un punto alto poi il secondo poi il terzo e adesso come lavoriamo i nostri la nostra treccia diciamo e i tre punti alti qua in mezzo prima lavoriamo qua si vede meglio questi due dopodiché il gruppo di tre punti alti lavorati normalmente e dopodiché questi altri due allora filo sull'uncinetto questo è il primo entriamo così ecco qua la mia baretta prendo il filo la tiro indietro alla baretta e faccio il mio punto alto filo sull'uncinetto entro prendo il secondo e faccio il mio punto alto adesso ho questi tre quindi questi tre li lavoro tranquilla senza problemi uno due tre ok poi ho questi altri due gli ultimi della treccia no e faccio la stessa cosa vengo così lo prendo ecco e lavoro il mio punto alto poi anche questo sempre così due poi i tre punti alti del bordino questo è il mio cane l'avete sentito prima molto carino lui ah beh è proprio quando non deve farlo ma cosa posso dirgli ok vedete bello vero e adesso vi vorrei far vedere anche come mettere qua in mezzo un punto bubble tanto per appesantire questo modello già pesantuccio no viene bene per questo dicevo comunque potete lavorarle anche così perciò ciò che vi volevo dire è che si possono creare tante tante combinazioni e disegni con queste trecce che veramente non finiscono più è proprio come come nel lavoro a a maglia cioè ai ferri proprio ugualmente si creano delle delle combinazioni degli intrecci che vi dico non finiscono più io man mano che me le creo diciamo ve le presento anche a voi perché sono troppo belle per non lavorare lavorarne però sì io ad esempio ho fatto ho fatto una fatica a capire non ho trovato nessun video né in inglese né io ho cercato in inglese non ho trovato nessun video che mi spieghi per bene mi spiegasse per bene proprio come si fa veramente allora mi sono messa faccio disfo faccio disfo ad un certo punto wow mi è venuto sono stata contentissima perché veramente molto molto bello quindi diciamo che con questo appunto anche io sono alle mie prime armi e mi dovete scusare se magari non sono riuscita a fare una spiegazione ma io spero di sì perché mi dispiacerebbe veramente troppo bello ok e si va avanti così facciamo un altro una catenella giriamo uno cioè praticamente uno un attimo facciamo il bordino due no tre mamma mia praticamente noi da qua dal primo intreccio facciamo l'intreccio uno due tre e quattro e poi facciamo ripetiamo sto modulo niente altro adesso andiamo a ripetere proprio andiamo a ripetere niente niente uno due tre lavoriamo questi così uno due intorno alla baretta poi poi i tre punti alti qua uno due e tre ok poi questi altri due intorno alla baretta davanti io ho detto cosa vuol dire quando dico davanti nel senso che l'uncinetto è lì indietro alla baretta baretta l'abbiamo davanti all'uncinetto ok e poi i nostri tre punti due tre ok mette quindi è così spero veramente che vi sia piaciuto vi spiego anche come fare con questo ma non è più difficile cioè se avete capito veramente il punto potete mettere in mezzo ciò che vi pare cioè un punto io ho messo un punto rilievo perché veramente viene carino o no l'uncinetto